grazie 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 gasp grazie gasp 0 1 0 1 0 1 0 gol di malinowski su deviazione un gol fortuna partita di quelle una partita di ora capisco benissimo diciamo quelli che la guarda una partita dall'esterno una palla una palla di quelle tattiche che sai quelle occasioni pochissime l'unica più ghiotta forse stata quella lì di zapata nel secondo tempo col coppo di testa però una partita di quelle ma facciamo un tanto zapping con la formula 1 perché la formula 1 non è di quelle voglio dire di quelle gare così scoppiettanti e così divertenti dipende poi dalle condizioni quando ci sono incidenti diciamo c'è un po più di 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 interesse però d'altro canto dall'altra parte una partita di quelle mamma mia classiche partite proprio da zero a zero in realtà poi finita una zero un gol fortunoso un tiro da fuori juve poca roba juve poca roba e poi ragazzi io ho capito ho capito perché la juve non la guardo mai ho capito io non posso vedere quadrato non lo posso vedere è un giocatore stronzo un pezzo di merda fatemelo dire questo giocatore qua è uno stronzo pezzo di merda quella la sua definizione non lo sopporto non lo sopporto non lo puoi toccare che va subito per terra poi è vero che subisce falli comunque lo marcano sempre stretto falli se ne presi la munizione se lo va a prendere soltanto alla fine quando poteva prendersela anche prima io vi giuro quando c'è questo giocatore qui non lo sopporto non lo sopporto comunque comunque è un po sto godendo a dirla tutta ma per il semplice fatto per il semplice fatto che già tutti facevano i calcoli no io ho visto un posto non mi ricordo dove che l'hanno sparsa un po ovunque no sui gruppi sportivi anche su non so chi l'aveva scritto sta puttanata se hanno già fatti i calcoli juve vince una zero con l'atalanta l'inter perde con napoli e poi pareggia l'inter la juve vince tutti i calcoli sono già fatti i calcoli per rimonta scudetto a casa a casa ragazzi a casa mi spiace per vabbè ragazzi io cercherò il più sportivo possibile come sapete antisportivo non è che è un cazzo vi dico quello che penso ovviamente non è che stavo tifare juve a parte che io a priori a priori in una squadra che non ho mai sopportato ma ovvio mi sembra abbastanza ovvio però ovviamente per la classifica mi preoccupo abbastanza abbastanza ora abbiamo una possibilità stasera di allungare che me ne sto zitto ma comunque dovesse anche non arrivare a un risultato pieno quindi tre punti stasera mi ha contento di un pareggio ma mi auguro di non perdere così da tenerli giù giù per favore giù è andato l'Atalanta sto passando la juve tra le altre cose l'Atalanta è terza diciamo che tomi tomi cacchi cacchi questi qua in Champions ci arrivano quasi quasi con comodo e Milano oggi ha vinto Milano oggi ha vinto contro il Genoa è andato anche bene poteva anche finire in pareggio però vabbè in Milano la squadra che mi preoccupa di me l'ho sempre detto diciamo ha avuto un inizio stagione che è venuto risultati veramente incredibili ora stanno rendendo vittorie ma comunque ragazzi io non dico che il campionato è chiuso ma diciamo questa è l'inizio di dimostrazione che la juve quest'anno non c'è proprio non c'è proprio pirlo non pirlo però proprio anche senza Ronaldo vabbè è uscito di bala è entrato culusesco insomma però la squadra proprio non c'è ma si vede si vede chiaramente che questo l'Atalanta faccia sto gran gioco ok pipim pipà vero vero effettivamente però è stata un po' più cinica ovviamente è stato anche un po' più pericoloso tra le altre cose la juve gioca sempre in quella stessa maniera per cui a me mi annoio poi magari effettivamente anche l'Atalanta Inter è finita cioè la partita è stata più o meno al stesso modo solo che ha vinto l'Inter per fortuna quindi quelle partite tattiche dove non succede niente di che quelle mezze occasioni proprio che una squadra fa il gioco l'altra attende poi fa il contropiede poi quello si fa il passaggio pipim pipi le partite noiose queste partite noiose che possono finire anche 0 a 0 che poi tra la sblocca chissà chi da un giro da fuori da un caccio d'angolo da qualunque occasione che sia e comunque questa juve boh non gira non gira ora chissà cosa succederà ma rischia grosso è per la cempio rischia grosso perché la Lazio la Lazio ha vinto non lo so vinceva 4-2 bene non l'ho più visto sinceramente ho fatto i video proprio nell'immediato ed è raro raro che faccio video su su altre scufo altre partite però ho dovuto vederla giusto perché in attesa di vedere l'Inter stasera dopo gufiamo un po un pochettino e ho gufato bene facevo un po zapping perché tante volte veramente mi scogliono ragazzi a volte mi scogliono cioè non forse era più meglio vedere ieri cosa cosa c'è 4-3 quando era Fiorentina che partita era Fiorentina contro non mi ricordo più non mi ricordo più non mi ricordo più vabbè comunque ragazzi allora noi ci vediamo allora a breve inizierò un gameplay speciale gameplay demo di Resident Evil Village non mancate durerà mezz'ora esatta quindi perciò uscirà alle 19 quindi più o meno lo farò prima ovviamente dalla partita di Napoli Inter poi ci vedremo poi stasera col commento post partita classico di Napoli Inter speriamo speriamo di allungare ma comunque oggi pomeriggio cioè stasera guarderò la partita già un po più tranquillo un po più tranquillo perché sapete che la Juve è quella che temo di più piuttosto che il Milan per il presunto campionato quindi va bene possiamo essere contenti ringraziamo l'Atalanta e noi poi penseremo alla nostra partita ora va bene va bene a presto ragazzi a tra poco e a più tardi commento post partita quindi Resident Evil Village gameplay demo in live non mancate a breve e Napoli Inter commento post partita ciao